Ben trovati amici del Centrometrio Italiano, cambio di circolazione in settimana con correnti più fresche e instabili che si insinueranno in quota portando acquazzoni e temporali da nord a sud. Anche il prossimo weekend, stando alle ultime uscite dei principali modelli, dovrebbe essere caratterizzato dall'instabilità, soprattutto di stampo pomeridiano. Le zone dove si concentreranno i fenomeni più intensi saranno in particolare quelle alpine e quelle appenniniche, ma non si esclude che gli acquazzoni temporali possano anche sconfinare verso le pianure limitrofe e verso le coste. Per quello che riguarda le temperature, invece, queste rimarranno generalmente in linee o poco sopra le medie, con massime fino a 33-34 gradi sia al centro-sud che sulla pianura padana. Per tutti i prossimi aggiornamenti vi invitiamo come sempre a seguire il nostro sito e il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometrio Italiano. Grazie. Grazie.